Ciao, sono Panos e questa è la tua grande occasione. Puoi entrare a far parte della ricerca scout per Football Manager 2020. Io lo so già che tu conosci bene tutti i giocatori della tua squadra del cuore e probabilmente delle squadre che partecipano al campionato dove gioca la tua squadra del cuore. Quindi è venuto il momento. Vai su panos.it, clicca in alto dove c'è scritto ricerca e iscriviti selezionando le squadre che conosci meglio. A questo punto entrerai a far parte del gruppo scout e vedrai che non ci vorrà tanto tempo. Per tutti quelli che collaboreranno per almeno 3-4 squadre oppure 2-3 squadre e magari qualche task sarà prevista una coppia omaggio del gioco. Quindi è il tuo momento, dai. E anche se collaborerai solo per una squadra, il tuo nome comparirà nei crediti del gioco e potrai essere uno dei regen del prossimo Football Manager 2020. Ti aspetto. Dai, vattene ad iscrivere www.panos.it in alto ricerca. Ciao.